Musica Bella ragazzi da Skate Passion, benvenuti in questo nuovissimo video oggi vi mostro i progressi che ho fatto in questi ultimi mesi di skate quindi senza perdere altro tempo vi lascio le clip questo è solo il primo di tanti, tantissimi tentativi che ho fatto per provare i kickflip come potete vedere ero riuscito a chiuderne un po' tenendomi ad una sbarra ma avevo ancora molto lavoro da fare a chiuderne un po' tenere Dopo ore e giorni sono arrivato a questo risultato in cui per la prima volta ho messo su entrambi i piedi è stato bellissimo ma non era ancora abbastanza tutto questo fino a quando un giorno finalmente ce l'ho fatta ero stra felice perché finalmente avevo chiuso il mio dream trick il kickflip durante le vacanze ho provato anche a fare borderline su un muretto di legno purtroppo questo è il massimo che sono riuscito a fare ma non mi lamento perché mi è servito a prendere più confidenza con questo trick che riproverò più avanti per finire ho imparato anche fakie wick spin un trick che consiste nel ruotare di 180 con il corpo mentre lo skate fa un 360 show it davvero niente male è tutto per questo video spero vi sia piaciuto iscrivetevi lasciatemi un like un commento e aiutatemi ad aumentare gli iscritti condividendolo con i vostri amici iscritti grazie ciao ciao Grazie a tutti.